Continua il processo per l'omicidio di Francesco Pio Maimone, 18enne ucciso con un colpo di pistola sul lungomare di Napoli nel 2023. Per questo omicidio è imputato Francesco Pio Valda. Nel corso dell'ultima udienza sono stati ascoltati i quattro ragazzi con cui Valda litigò quella notte prima di sparare. Ce ne parla Tiziana Castaldo. Continua il processo per l'omicidio di Francesco Pio Maimone, il 18enne ucciso sul lungomare di Napoli con un colpo di pistola il 20 marzo del 2023 per il quale è imputato il ventenne Francesco Pio Valda. Durante l'ultima udienza svoltasi ieri davanti alla corte di assise di Napoli sono stati sentiti i ragazzi con cui Francesco Pio Valda litigò quella notte. Fu proprio dopo il litigio che il ventenne, secondo la ricostruzione dei fatti, avrebbe estratto la pistola e sparato un colpo che avrebbe colpito e ucciso Francesco Pio Maimone, assolutamente estraneo ai fatti ma che era lì con dei suoi amici. Uno dei ragazzi ascoltati ha confermato il motivo del litigio, un drink versato sulle scappe molto costose di Valda. Qualcun altro ha confermato la scena della pistola puntata per sparare, qualcuno ha parlato di momenti di panico raccontando scene molto poco chiare e confuse che non ricordate chiaramente. Insomma, come è già accaduto altre volte, purtroppo anche in questo caso durante il processo i testimoni sono sempre molto resti a fornire informazione, il che chiaramente non aiuta a fare giustizia. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sulle nostre pagine social di Facebook, Instagram o Twitter oppure sui nostri canali di TikTok o YouTube, potete anche sempre consultare il sito www.nanotv.it